Il area spirito al termine di questa emozionantissima partita, Sabino De Benescandicci, chieri dopo un avvio molto difficile da parte vostra avete totalmente cambiato l'inezza della partita fino al 17 a 9 nel quarto set, qualcosa è successo? Grazie che me l'hai ricordato, no sì siamo partite sicuramente sotto tono poi abbiamo capito che l'unica via per giocare contro queste squadre è mettercela più di tutta quindi abbiamo switchato diciamo il nostro atteggiamento soprattutto in difesa e questo si è sicuramente visto. Il quarto set è grave loro sicuramente chi è entrato ha dato l'apporto e la carica giusta alla squadra noi ci siamo un po' spenti abbiamo un attimo spento la luce c'è stato un blackout e da lì poi non è facile rientrare dobbiamo imparare da questa cosa e non deve più succedere perché comunque tanti punti di vantaggio vanno gestiti bisogna essere bravi anche a gestirli complimenti grazie